Per un attaccante il gol è tutto. Lorenzo Pinzauti nell'ultimo match contro la Paganese ha servito a Bombaggi l'assist del 2-0 e poi ha accarezzato il Tris con un'azione personale creata qualche istante prima che Paci lo richiamasse in panchina. Al momento del cambio il 26enne attaccante biancorosso è apparso un po' scontento, forse perché sentiva di essere nella giornata giusta per tornare a segnare. Ho sempre accettato le scelte di ogni allenatore che ho avuto tant'è che già quando sono andato in panchina ho dato il 5 a tutti sicché è finita veramente lì in due secondi. La partita è stata molto bella, è stata una bellissima vittoria, dovevamo vincere e abbiamo vinto con merito quindi siamo soddisfatti. Comunque penso che sì, io ho tanta voglia, veramente tanta voglia di tornare al gol penso, so che comunque quelli di quest'anno sono pochi, non mi era mai successo sinceramente quindi insomma è una cosa che ho tanta voglia insomma di tornare al gol il prima possibile. Domenica di nuovo al Bonolis contro il Catanzaro che nel turno infrasettimanale ha perso contro l'Avellino. È una partita difficile, come ho detto prima dobbiamo prendere questo morale, questa consapevolezza che secondo me è tornata dall'ultima vittoria e portarla sul campo. Secondo me come eravamo per dire a inizio campionato non abbiamo temuto nessuno, ad ognuno abbiamo dato il filo da torcere quindi se siamo ritornati in quella maniera dobbiamo dobbiamo farlo vedere già da domenica.